ci troviamo a roma allo scout center e ho appena consegnato i diplomi ai nostri discenti che hanno concluso il quarto corso organizzato dall'accademia del paziente esperto e upati in ricerca e sviluppo farmaci innovativi per noi un onore annoverare quindi 140 pazienti esperti che sono pronti a collaborare e coadiuvare tutte le nostre attività nel territorio nazionale. Durante questi tre giorni abbiamo avuto modo anche di incontrare i nostri partner istituzionali, i nostri altri stakeholder e con loro elaborare nuove progettualità e siamo quindi ben lieti di potervi raccontare che nei prossimi mesi avremo delle importanti attività da svolgere e vi aspettiamo numerosi come partecipanti a tutto quello che è il nostro nuovo programma per il 2024. Tutte queste attività richiedono uno sforzo a tutti noi anche a te ed è per questo che ti chiedo di sostenerci con una donazione. Grazie